Un buongiorno amici di Ant.it e un buongiorno al collega e amico Luca Bassotti per chiudere degnamente questo 2015 dove ho fatto la puntata mensile a Villa Picena, queste le pillole le facciamo nel nostro studio per questo martedì 22 dicembre e giustamente scegliere il meglio della piazza. Il collega Luca Bassotti che noi l'abbiamo ascoltato, visto il nostro problema che avevamo di vista l'abbiamo ascoltato per la sua radiocronaca, poi ieri sera la festa Samb, diciamo una chiusura col botto come si vuol dire perché c'è stata grande euforia, grande festa però era un po' quello che voleva la famiglia Fedeli per l'investimento che ha fatto. Tanto buongiorno a tutti, credo proprio di sì, i numeri parlano chiaro, è una squadra che sta dominando il campionato prima in classifica con 8 punti di vantaggio sulla seconda, 10 sulla terza e poi c'è il vuoto completo alle spalle del Fano il miglior attacco del girone, tra qualche giornata diventerà anche la migliore difesa quindi credo che ci siano tutti i presupposti per fare bene e credo anche tra l'altro la Samb al giro di Boa sia andata ben oltre le più rose aspettative tutti avevano messo nel mirino il primo posto ma non sicuramente con un cospicuo vantaggio e così sulla seconda in classifica. Ecco ti aspettavi, giustamente come hai detto tu, questo divario enorme, anche Fano e Matelica nonostante hanno vinto l'ultima gara del giro d'andata però stentano a tenere il passo le altre squadre proprio distante anni luce, poi considerando che la Samb come voleva un po' il tecnico ha sfoltito la rosa e ha preso qualche puntello, poi adesso si è alla ricerca di questo centravanti over svincolato però penso che ormai l'organico pallavino lo abbia assemblato alla grande. Ma per quanto riguarda il discorso del primo posto possiamo dire questo che sicuramente era negli obiettivi, nelle prime giornate dava l'impressione che il campionato fosse molto più equilibrato di quello che si potesse pensare, poi la svolta della stagione, la prima svolta e speriamo che sia l'unica è stata quella con l'esonero di Beoni che comunque va sempre ricordato il buon lavoro effettuato perché ha lasciato una squadra a primo posto in classifica e con il primo attacco del girone aveva delle problematiche nella fase difensiva ed è arrivato quello che io chiamo l'equilibratore cioè Ottavio Palladini che ha dato quella marcia in più alla squadra e la differenza si è vista nelle nove gare in cui lui è stato sulla panchina Rosso-Blu ha ottenuto otto vittorie, un pareggio, credo che sia un ruolino di marcia davvero impressionante e di una squadra che poi è riuscita a mettere quei punti importanti per poi gestire tranquillamente anche il mercato di dicembre dove sono arrivati dei pezzi funzionali a quello che è il progetto sia del gruppo che dell'obiettivo da raggiungere, è stata sfoltita anche la rosa vedremo poi se arriverà la punta over, qui ci sono varie correnti di pensiero anche dentro della società, chi la vuole e chi non la vuole resta il fatto che secondo me alla fin fine diventerà ancora un obiettivo così come sarà un obiettivo anche un under difensivo da prelevare durante il mercato di gennaio quello dei professionisti Ecco, parlando un po' così a bocce ferme perché adesso c'è la sosta di campionato del 6 gennaio considerando anche che qualche squadra si è un po' rinforzata forse potremmo dire tra virgolette l'acquisto più importante l'ha fatto la Fermana con Molinari che domenica ha ribaltato sto risultato la Fermana che sta attraversando un momentaccio forse candidata anche tra le pretendenti però sta in una zona di classifica veramente molto difficile però fa Campobasso, lo stesso Chieti tante altre squadre che hanno un po' puntellato ma penso che la Samb vista fino a questo momento non dovrebbe avere problemi in gioco di ritorno Ma guarda, tu hai nominato di Campobasso e Chieti che poi tra l'altro sono un po' le delusioni di questo campionato sono due squadre che si sono rese conti ormai del distacco abissale che hanno da recuperare la Samb e quindi hanno fatto la cosa più logica che potessero fare cioè cercare di dar via più giocatori possibili mantenere comunque un discreto livello qualitativo e quindi far risparmiare le proprie società e cominciare a programmare per la prossima stagione Per quanto riguarda invece Fano e Matelica hanno fatto secondo me un ragionamento diverso innanzitutto hanno fatto una valutazione del tipo che la Sambetese è lontana dall'essere raggiunta e quindi valutano che solamente la Samb possa perdere questo campionato e quindi il loro obiettivo era quello di non svenarsi di mantenere la qualità che avevano magari anche come dire ridurre un pochino l'organico e prendere qualche elemento funzionale ma l'obiettivo ovviamente era quello di non svenarsi il problema probabilmente si sarebbe posto per il Materica e il Fano e qui magari poteva esserci qualche valutazione diversa nell'eventualità che i distacchi fossero minori sulla Sambetese allora a quel punto lì forse Materica e Fano avrebbero potuto fare una valutazione diversa e quindi magari irrobustirsi e programmare ancora un impegno economico maggiore per poter andare a raggiungere la Samb ma in questo momento la Samb è ben lontana e credo che solamente la Samb possa perdere questo campionato e ci sono tutti i prestupposti credo per poter tagliare il traguardo Ecco ieri c'è stata tra le varie diciamo così hanno parlato in molti a questa cena tra i quali anche il sindaco Giovanni Gaspari che già mi assicuro a me anche perché per il mio approfondimento sul sito gli chiesi la storia dello stadio e come ha ribadito anche ieri dice che per il 31-12 consegnerà le chiavi tra virgolette per lo stadio a norma come la vedi con questa cosa? Ma guarda io francamente prendere come una questione di vita o di morte se arriva lo stadio a norma entro il 31-12 non ne farei una gravità così assoluta abbiamo aspettato ben sei anni per vedere a norma questo stadio quindi anche se arriverà la messa a norma dello stadio a gennaio o a febbraio conta poco nulla rispetto a quello che può essere la scadenza del 31-12 non è che a gennaio o a febbraio possano essere organizzati eventi o comunque le persone che magari vogliono andare allo stadio per usufruire anche della tribuna est mare ci può stare dopo tanta attesa si può attendere anche un mese e due mesi se eventualmente non si rispetta la data del 31-12 sicuramente lo stadio per l'inizio della prossima stagione sarà a norma quindi nelle intenzioni della società c'è sicuramente l'organizzazione di alcuni eventi ieri sera tra l'altro il sindaco ha affermato che in caso di promozione e tutti ce la auguriamo arriverà anche quella che sarà la messa a norma dell'impianto di illuminazione io ritengo che se la messa a norma che arriverà attraverso l'ok da parte del collaudo della commissione vigilanza di pubblico spettacolo arriverà anche a febbraio non credo che ci siano dei problemi è un puntiglio da parte di qualcuno una strumentalizzazione anche da parte di qualche nostro collega che magari fa battaglie verso un sindaco che ormai è alla fine della propria della sua propria gestione il suo mandato ritengo insomma che l'importante è che per la prossima stagione o comunque per i mesi estivi possa essere usufruibile per le varie iniziative che ha intenzione e che ha in cantiere di allestire il presidente Fedeli Tornando a calcio giocato ti faccio l'ultima domanda mi pare che ci sia un amichevole in vista perché Palladini vuole tenere l'organico sulla corda al di là delle feste che ieri sera ma se ne faranno altre giustamente i ragazzi con le rispettive famiglie approfittano al periodo di Natale però penso che c'è un amichevole in vista per fine anno Sì, il 30 di dicembre dovrebbe essere confermata l'amichevole a Civitanova contro la Civitanovese al Poli Sportivo Anche per unire un po' la festa rosso-blu visto il gemellaggio Beh, sì diciamo tra l'altro che il cammino delle due squadre è travolgente anche quello della Civitanovese il campionato di eccellenza che ormai è praticamente vinto il campionato e quindi ottenuto ormai ha in mano la promozione Sì, 11 punti grazie a voi auguri anche a voi ci vediamo per il 2016 benissimo, grazie e sempre per seguirlo Forza Samba sempre Forza Samba Grazie a tutti